Un buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la zona franca per 23 comuni e 770 aziende del cratere sismico 2016-2017 che potranno beneficiare dei provvedimenti contenuti proprio nella zona franca urbana finanziata con 30 milioni di euro. Il servizio di Alfredo Primante. Esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dall'imposta municipale e desonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Sono questi gli sgravi previsti per le aziende che faranno parte della zona franca urbana del sisma del centro Italia. 770 in totale nelle province di L'Aquila, Pescara e Teramo. Il governo ha finanziato questa misura con 30 milioni 669 mila euro e ogni azienda beneficerà di una defiscalizzazione media di 39 mila 830 euro. In totale per l'Abruzzo sono 23 i comuni del cratere sismico che beneficeranno della zona franca urbana. Presidente, cosa significa per l'Abruzzo la zona franca urbana e che cosa significa per le imprese questa defiscalizzazione? Significa un valore economico risparmiato di 39 mila euro cada uno di ciascuna delle 770 imprese che hanno fatto domanda rispetto ai 23 comuni del cratere sismico determinando un risparmio sul piano della defiscalizzazione pari a 30 milioni 669 mila euro. È la prima volta che un cratere sismico ha una copertura normativa defiscalizzante di questa natura, di questa certezza, che porta a questo livello di flessibilità fiscale e di sospensione, di ritiro di obbligo fiscale. Secondo lei questa misura che adesso vale per l'area del cratere può essere stesa anche a altri territori che pure ne avevano fatto richiesta in passato? Assolutamente no, ad oggi ed è bene non determinare illusioni. Con la vita del nuovo Parlamento io mi auguro che il nuovo Parlamento sia fruttuoso come l'ultimo Parlamento. Mi aspetto che il Parlamento continui ad occuparsi dei problemi del territorio evitando che nascano degli assunti in Parlamento ma si insedino dei parlamentari capaci di fare leggi su misura dei problemi del territorio. Cronaca adesso aveva allestito a due passi dalla questura in pieno centro città a Pescara un vero e proprio laboratorio artigianale per il taglio e il confezionamento della droga. Nell'appartamento in uso ad Andrea Scaglione, 23enne pescarese ed in particolare nella camera da letto, gli agenti della squadra mobile hanno infatti trovato una pressa metallica artigianale, una macchina per il confezionamento sottovuoto, un frullatore usato per mischiare la cocaina con le sostanze da taglio e 5 bilancini elettronici. Che si trattasse probabilmente di droga destinata alla vendita è confermato anche dal sequestro di un quaderno dove erano annotati nomi e cifre, una sorta di libro mastro su cui era riportata la contabilità dell'attività adesso al vaglio degli inquirenti. Nella perquisizione sono stati sequestrati 5 involucri di cocaina pronti allo spaccio per complessivi 152 grammi che al dettaglio avrebbero fruttato non meno di 12 mila euro. Il giovane è stato arrestato. Ancora cronaca ma ci spostiamo geograficamente. Conti correnti bancari e postali e beni immobili per circa 1 milione e 100 mila euro sono stati sequestrati all'amministratore protempore di una società marsicana del settore della coltivazione e del commercio di prodotti agricoli. è ritenuto responsabile di aver occultato e distrutto documenti contabili e di non aver dichiarato i redditi. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria di Avezzano è stato eseguito dai militari della compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona. Dalla complessa verifica fiscale sarebbe emerso che la società, perché per 2011 e 2012 avesse regolarmente presentato le prescritte dichiarazioni, in realtà avrebbe operato ed effettuato operazioni commerciali attraverso cessioni di beni e prestazioni di servizi, conseguendo dal 2011 al 2014 ricavi per oltre 15 milioni di euro in totale evasione di imposta. Per l'uomo la misura interdittiva del divieto di esercitare l'ufficio direttivo di amministratore e legale rappresentante dell'impresa per 12 mesi. Ci spostiamo all'Aquila adesso perché in provincia del capoluogo sono state riaperte le strade SP86 del Vasto ed SP97 di Lago di Racollo sul Gran Sasso, strade che erano rimaste chiuse per molto tempo a causa dei danni subiti il 18 gennaio di un anno fa dopo una grande slavina che distrusse il manto stradale e portò con sé i guardraili del servizio di Luciana Celeste. Il consigliere provinciale con delega alla viabilità Pierluigi del Signore ha seguito dei sopralluoghi effettuati e constatato l'assenza di neve. Comunica che è stata riaperta la strada provinciale 86 del Vasto che collega in prossimità del casello autostradale sulla A24 a Sergi con il passo delle capannelle ricordando che in caso di precipitazioni nevose o segnalazione di parere negativo della Commissione Valanghe, l'arteria sarà nuovamente chiusa per garantire la sicurezza degli automobilisti. La strada aveva subito ingenti danni il 18 gennaio di un anno fa quando una slavina con conseguente frana aveva investito alcuni tratti dell'arteria portando a valle i guardrail e riversando sulla carreggiata numerosi detriti. Rimane invece chiuso il tratto che dal Vasto porta al lago di Campotosto a causa di lavori da eseguire presumibilmente nella prossima primavera estate. Intervento programmato per circa 50.000 euro. Riaperta anche la strada provinciale 97 del lago di Racollo. Il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, e il consigliere delegato alla viabilità Pierluigi del Signore si dicono soddisfatti per aver potuto assicurare la percorribilità, seppur temporanea, alle strade. Azioni volte a favorire e promuovere un rilancio del comparto economico e turistico dell'area, ma che è necessario garantire ai viaggiatori e residenti sicurezza e incolumità nel rispetto delle competenze e delle regole. Cambiamo argomento, adesso circa 3 milioni di euro per finanziare tre nuovi poli innovativi per le scuole delle infanze. Il finanziamento ministeriale è destinato a tre comuni, Montesilvano, Celano e Teramo. Vediamo. L'Abruzzo avrà tre nuovi poli di infanze innovativi a Celano, a Teramo e a Montesilvano. Nella scuola di infanzia Tribune, in località stazione, nell'asilo nido Michele Carusi, in via Sanità 1 a Celano, nella scuola di infanzia Fornacicona, di via Andrea Basile 37, nell'asilo nido Coccinella, in via Felice Barnabè, a Teramo, ed infine nella scuola dell'infanzia Colonnetta, in via Sagno e nell'asilo nido Filomena degli Castelli, in via Foscola, a Montesilvano. Questi i tre poli per l'innovazione, che saranno finanziati dalla Regione Abruzzo nell'ambito delle risorse utilizzate per il triennio 2018-2020, per il potenziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni. La Regione Abruzzo, alla quale il Ministero dell'Istruzione ha assegnato oltre 3 milioni di euro, doveva selezionare tre progetti sul proprio territorio, in accordo con l'ufficio scolastico regionale e previo parere del Lanci. Nello specifico 1.514.000 euro sono destinati alla realizzazione della nuova scuola dell'infanzia di Celano, 1.355.000 alla costruzione della scuola dell'infanzia di Teramo e 600.000 all'ampliamento del polo scolastico di Montesilvano. I poli per l'infanzia sono pensati per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo dei bambini. In un unico plesso, oppure in edifici vicini, infatti, sorgeranno più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni, al fine di offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo. La distribuzione di risorse è stata effettuata sulla base della popolazione scolastica da 0 a 6 anni, secondo i dati dell'Istat, e sul numero di edifici già presenti con riferimento alla fascia di età tra i 3 e i 6 anni. L'obiettivo è quello di favorire la realizzazione di nuovi poli in aree in cui è maggiore la domanda e in cui scarseggiano le strutture disponibili. Ci spostiamo a Lanciano adesso, dove a giorni ci sarà la visita degli ispettori del Ministero per la ZTL. Il Comune nel frattempo sta apportando piccole modifiche, mentre la Municipale con il Targa System è impegnata a scovare chi non è in regola con l'assicurazione RCA. Vediamo. Carre attrezzi in funzione nel quartiere Borgo a Lanciano, dove vige la ZTL, non per rimuovere auto parcheggiate davanti ai passi carrabili, ma per rimuovere auto senza copertura assicurativa. Gli automobilisti inadempienti vengono stanati dai vigili urbani grazie al Targa System che non lascia scampo, così come non lascia scampo l'occhio vigile delle telecamere attive al varco del quartiere storico, diventate i due a causa della nuova disposizione viaria, come spiega l'assessore al traffico Francesca Caporale. Come promesso nei mesi scorsi abbiamo fatto richiesta al Ministero per lo spostamento del varco di via Finamore. L'abbiamo spostato più avanti per impedire il transito in Serietà Fianarroli e via Ferra Mosca, quindi l'accesso sul Corso Roma, ma lasciare aperto un varco verso Piazza del Malvo, questo perché per la viabilità è fondamentale avere uno sfogo per le auto verso Piazza Garibagli e quindi poi per risalire su fino in Piazza Plebiscito. Ad oggi le telecamere sono in registrazione, però aspettiamo ancora dal Ministero una risposta positiva per poter effettuare questo spostamento. Siamo in dialogo con loro, ci sarà nei prossimi giorni anche una visita da parte di uno degli ispettori del Ministero, però che non è inerente soltanto a questo spostamento, ma in generale alla visione su tutta la ZTL. C'è però da migliorare la visibilità della nuova segnaletica verticale. Su via Salita Fianarroli, ad esempio, il nuovo pannello è troppo alto e non immediatamente visibile agli automobilisti. La posizione della segnaletica in quel modo è perché nelle prossime settimane verranno istennati i pannelli a messaggio variabile con scritto controllo attivo e controllo non attivo, quindi anche i lavori che in questi giorni si stanno osservando sulla segnaletica verticale sono unicamente perché stiamo predisponendo i pali per questi nuovi pannelli che arriveranno entro la metà di febbraio con la scritta controllo attivo e controllo non attivo, come il Ministero accetta. Così come c'è assolutamente necessità di trovare una migliore collocazione della segnaletica verticale posta su via Ferra Mosca ed eliminare contemporaneamente il grave problema della sosta selvaggia. Purtroppo nel centro storico abbiamo questo problema di sosta selvaggia. Andremo a limitare questa sosta con dei dissuasori, quindi con dei paletti perché è importante che tutti quanti possano uscire dai loro garage o comunque in generale la viabilità venga tutelata perché i mezzi di soccorso devono poter transitare e non può accadere come è successo nel quartiere Civitanova che un'ambulanza o un camion dei vigili a fuoco venga fermato appunto dalla sosta selvaggia. Sicuri con la neve 2018, una giornata con il soccorso alpino per prevenire gli incidenti in montagna. Una giornata nazionale di sensibilizzazione per prevenire gli incidenti tipici che possono accadere in montagna soprattutto durante la stagione invernale. Domani tavola rotonda che sarà moderata dal giornalista di Rai3 Umberto Braccilli sui rischi peculiari della stagione invernale. Vediamo. Anche quest'anno torna Sicuri con la neve la giornata nazionale di sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale. Un'iniziativa promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dal Club Alpino Italiano insieme anche al Servizio Valanghe Italiano e alle scuole di alpinismo e sci alpinismo. Il 21 gennaio 2018 in prossimità degli impianti sciistici di Campo Felice i tecnici del Soccorso Alpino di Abruzzo, Umbria, Marche, Molise e Lazio anche attraverso prove pratiche e dimostrative daranno vita a momenti di coinvolgimento aperti a tutti gli appassionati sciatori ed escursionisti che desiderano ricevere informazioni o approfondire le proprie conoscenze sulla frequentazione della montagna innevata in ragionevole sicurezza. La giornata, dedicata alle vittime dell'incidente aereo che lo scorso 24 gennaio sul Monte Cefalone ha colpito l'equipaggio del 118 dell'Aquila sarà corredata da una tavola rotonda presieduta dal Presidente Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Maurizio Dell'Antonio. Sono stati inoltre invitati a partecipare insieme ai rappresentanti politici locali il Presidente della Regione Abruzzo e il Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Moderatore d'Eccellenza il giornalista di Rai3 Umberto Braccili che condurrà un dibattito sui rischi peculiari della stagione invernale Negli anni passati le giornate di Sicuri con la Neve hanno fatto registrare una preoccupante situazione che denuncia inequivocabilmente diffuse carenze a livello della preparazione personale della valutazione del rischio e dell'uso dell'attrezzatura d'auto a soccorso In questo senso risulta di fondamentale importanza far crescere la consapevolezza personale accompagnata da un indispensabile bagaglio tecnico Si chiama Come il senso della pioggia il libro in formato elettronico scritto da Fabio Corvini e Domenico Savino il cui ricavato andrà a finanziare la nuova casa dell'Agbe in corso di ristrutturazione Come il senso della pioggia un ebook, cioè un libro in formato elettronico i cui proventi saranno devoluti all'Agbe l'associazione genitori bambini emopatici di Pescara scritto a quattro mani da Fabio Corvini e Domenico Savino Il progetto dell'Agbe è importante come spiega il suo presidente In questi ultimi giorni abbiamo iniziato il nuovo cantiere per cui siamo impegnatissimi in questa nostra nuova sfida io lo chiamo sfida perché l'impegno che ci siamo messi è tanto ed è sicuramente oneroso quindi io colgo l'occasione per fare un appello a tutti i benefattori percadesi perché anche questa volta sicuramente ci daranno una mano Fabio Corvini è formatore nell'ambito di bullismo e cyberbullismo ed esperto dei pericoli della rete oltre che fotografo, musicista e scrittore e Domenico Savino è formatore e docente di sicurezza sul lavoro musicista e scrittore da tempo amici dell'associazione hanno scritto a quattro mani il libro che è una sorta di dialogo tra due anime che si srotola da prima in rete e poi di persona i luoghi della storia sono Napoli, Marsiglia, Orange e Montpellier con il romanzo che racconta temi essenziali dell'esistenza come l'amore, la fragilità, la forza, il dolore e la speranza una vera e propria discussione tra amici che si sono conosciuti appunto sui social e portata avanti appunto sotto forma di questo racconto nato da dentro, dall'interno di entrambi proviamo a comunicare attraverso le emozioni e nella continua ricerca della differenza tra ciò che è vero e la verità il dialogo tra i due amici che si incontrano per caso si svolge sempre nel racconto nel cercare di raccontare se stessi con le parole e la difficoltà di farlo con le parole e quindi provare a farlo attraverso le emozioni L'ebook uscirà appunto tra la fine del mese di gennaio e la fine del mese di febbraio e abbinato a questo ebook ci sarà un brano suonato da noi perché soprattutto siamo musicisti e abbiamo la passione per la musica e si troverà sui maggiori store dove vendono appunto i ebook a un prezzo simbolico che servirà poi per diciamo portare avanti il progetto dell'Agbe per quanto riguarda appunto questa bellissima cosa che stanno facendo e la casa 30 ore per la vita Apriamo adesso la pagina di sport perché dopo la lunga pausa torna in campo il campionato di Serie B e il Pescara che alle 15 sarà impegnato allo Zaccheria di Foggia per la prima giornata del girone di ritorno sono ufficiali le formazioni allora le andiamo a vedere le prendiamo proprio dal sito della società Biancoazzurra questo è il Foggia di Giovanni Stroppa peraltro allievo di Zeman e ex allenatore proprio del Pescara 3-5-2 per i satanelli pugliesi Guarna tra i pali e poi linea 3 camporese Loiacono e Tonucci in difesa il centrocampo molto folto da destra a sinistra Zambelli, Agazzi, Agnelli che sarà il playmaker Kragl e Greco peraltro uno dei nuovi acquisti in attacco un altro ex come Nicastro e Mazzeo andiamo a vedere le scelte di formazione invece di Zdenek-Zeman che sceglie Fiorillo tra i pali in difesa Crescensi-Coda Perrotta e Mazzotta Proietti e il playmaker le due mezze ali sono Valzani a destra e Brugman a sinistra il tridente ovviamente confermato Pettinari gioca Mancuso a destra e Capone sulla parte sinistra andiamo a vedere anche la panchina Biancazzurra con Savelloni Balzano Canute Elisalde Cocco Campagnaro Carraro Cappelluzzo Cullibali e Aime Baez ovviamente allenatore Zdenek-Zeman e noi tra pochissimo saremo in diretta con Diretta Staglio con Andrea Costantini i suoi ospiti ma soprattutto saremo allo Zaccheria di Foggia con il nostro Paolo Renzetti che racconterà il pre-gara la partita e poi ovviamente le interviste in diretta come sempre come quando giocano i Biancoazzurri scendiamo in Serie C perché alle 16.30 scende in campo anche il Termo anche qui dopo una lunga sosta contro il Vicenza ma le questioni di campionato si intersecano anche con quelle di mercato con Carletti del Carpi i discorsi sembrano essersi raffreddati mentre sembra sfumato un obiettivo Carlo Manicone del Lugano che è estimatore in Serie B la dirigenza Biancorossa però sarebbe interessata all'attaccante esterno dell'Avellino Idrissa Camarà vediamo il Teramo si rituffa nella seconda parte di campionato con un occhio però sempre puntato verso il mercato perché la società ha altri 11 giorni ancora per rinforzare una Rosa che ha perso due pedine davanti aspetta di essere integrata con qualche innesto che possa dare maggiore contributo in zona gol per il momento sembra aver subito una brusca frenata la trattativa che doveva portare Cristian Carletti dal Biancorosso Carpi al Biancorosso Teramo la valutazione economica dell'affare sembra aver consigliato il presidente Campitelli e il direttore sportivo Giorgio Repetto ieri al Bonolis per la rifinitura a mollare la presa difficile stabilire se lo stop sarà solo strategico oppure definitivo intanto però il diavolo si è gettato a capofitto su Idrissa Camarà 25enne della Guinea Bissau assistito da Beppe Accardi l'esterno attacco dell'Avellino dovrebbe arrivare in prestito dagli Erpini esattamente come Sumare sperando però di avere maggiore spazio e fortuna di quanta non ne abbia avuto il suo predecessore è ovvio che il ragazzo ha delle qualità e l'Avellino lo manderebbe a trovare uno spazio che in Serie B non avrebbe ed è anche per questo che non manca la concorrenza tipo quella del Trapani che lo vorrebbe in Sicilia al più presto la dirigenza Teramana sembra essere ben predisposta verso l'arrivo di Camarà che prenderebbe numericamente il posto proprio di Sumare davanti invece non dovrebbe arrivare dal Lugano il giovane Carlo Manicone che è appetito dalla Serie B Entella in primis il Teramo ci aveva provato a prendere il gioiellino cresciuto nella primavera dell'Empoli ma la concorrenza della cadetteria ha fatto in modo da consigliare i biancorossi a molare la presa basta qualcosa se l'aspetta da qui alla fine del calcio mercato non sarà Manicone ma il profilo potrebbe essere quello ragazzo giovane di prospettiva con già qualche esperienza nel calcio che conta 11 giorni ancora per provare a trovare il giocatore giusto nel frattempo il torneo che ricomincia le questioni salvezze saranno al centro dell'attenzione mercato permettendo e ovviamente anche in Serie D si torna in campo oggi si parte con un derby tutto abruzzese vediamo il programma perché il San Nicolò sarà questa è la giornata precedente il San Nicolò sarà impegnato al campo Castrum di Giulianova contro il Francavilla nell'anticipo della giornata di campionato eccola qua Fabriano Campobasso Iesina Matelica Monticelli Avezzano Nero Stellati L'Aquila Agnonese Castelfidardo San Nicolò Francavilla che inizia tra poco e ovviamente la seguiremo nel lungo pomeriggio tutto dedicato alla giornata di campionato San Giustese Recanatese domani Vastese Pineto alle ore 15 Vispesaro San Marino e con questa notizia è davvero tutto io vi ricordo tra pochissimo diretta stadio con Andrea Costantini i suoi ospiti e poi Paolo Renzetti in diretta dallo stadio Zaccheria di Foggia per l'inizio di Foggia Pescara e la TG6 torna questa sera con la seconda edizione alle ore 19 è tutto buon pomeriggio e la TG6 e la TG6